Siamo al CT Rovigo, qui si sta disputando un seconda categoria maschile, l'evento più importante della provincia di Rovigo, che comunque è una provincia in movimento che sta crescendo, così come ci ha spiegato il delegato provinciale Massimo Borgato. Parliamo un po' delle attività a Rovigo, quanti circoli ci sono, come funziona, quanti appassionati seguono questo sport? Allora, in città abbiamo due circoli, uno è il CT Don Bosco, vicino alla stazione, e questo che è praticamente quello più antico. Il CT Don Bosco per parecchi anni è stato molto importante dal punto di vista agonistico, poi il Tramartiri negli ultimi anni ha recuperato anche il fatto di campionati a squadra e di partecipazione e soprattutto è riuscito a riportare giovani anche nel proprio circo. Cosa dire? Quando sono arrivato eravamo 500 tesserati, questa è una provincia piuttosto piccola, più che altro per densità abitativa, con delle problematiche geografiche, perché praticamente è lunga quasi 180 chilometri, quindi da Bergantino, che confina con il Mantovano, andiamo fino a Portotolle, giù al mare, quindi non è facile seguirli questi circoli. Cosa dire? Che abbiamo raddoppiato, sull'onda lunga anche del successo del trend della federazione italiana, tennis a livello nazionale, non sono stato bravo, però siamo stati un po' tutti bravi e quindi siamo riusciti a raddoppiare. Oggi siamo mille, mille tesserati e i nostri tornei da 40 presenze di media sono passati a 80, 100, 110 presenze numeriche importanti per la nostra provincia. Come tornei avete open, c'è un pochino di tutto, c'è l'attività per gli under, anche nella provincia o comunque oltre che in città? Sicuramente abbiamo il circolo tennis di Lendinara, che è un altro circolo di tradizione, tra l'altro in un sito bellissimo, perché praticamente ha sede in un palazzo del 4-500, fine 400 e quindi è veramente carino e anche lì hanno le loro squadre, fanno un campionato di tornei di terza categoria, fino a un paio di anni fa mi hanno fatto anche due tornei di seconda categoria e adesso c'è lì in atto un torneo femminile di quarta categoria, quindi abbiamo altri circoli che danno il loro contributo. Anche Bergantino, che è il primo torneo di quarta che inizia ad aprile, mi porta sempre sul centinaio di giocatori in campo. Poi qui so che in provincia stanno tentando anche di portare l'erba sintetica per creare un po' Wimbledon. Sì, infatti lì abbiamo avuto anche la presenza della nostra, che ha presentato il libro, ricordami? La Sant'Angelo. Sant'Angelo, scusami, e praticamente è questo ragazzo che è un appassionato, domani sarà presente qui per prendere contatti anche con la FID, perché è veramente un appassionato, l'ho visto anche a destra, perché giriamo noi un po'. E domani verrà a vedere la finale qui del seconda categoria di Rovigo, proprio perché è intenzionato a regolarizzare, a dare un senso alla stagione, perché attualmente questi campi, che sono bellissimi dal punto di vista del manto erboso, che sono andato a visitare un mesetto fa, dovranno avere anche una recensione adeguata, perché attualmente sono ricavati da un campo di calcio. Quindi insomma c'è movimento, c'è anche voglia di fare sotto tanti punti di vista, incominciare da questo che è un torneo, quello più importante, della provincia. Sì, sicuramente questo torneo è quello che fa sì, perché noi siamo abbastanza tradizionalisti, tanto che andiamo a fare ancora i campionati provinciali. In questi giorni sono passati qui tutti i nostri presidenti a prendere le locandine, a prepararsi, a pubblicizzare, in ambito, cioè per giocare almeno una volta all'anno, per i colori, per un po' per lo spirito d'appartenenza, come era negli anni 70-80, ecco questo accadrà. E questo è il punto di riferimento che anticipa la chiusura della stagione all'aperto.